Con questo tutorial parliamo dei criteri di congruenza dei triangoli rettangoli. Vediamo il primo criterio. Dice due triangoli rettangoli sono congruenti se hanno rispettivamente congruenti due cateti. Allora abbiamo due triangoli che sono rettangoli se questo cateto risulta congruente a questo cateto e questo cateto risulta congruente a questo cateto, allora i due triangoli risultano congruenti. Vediamo ora il secondo criterio. Dice due triangoli rettangoli sono congruenti se hanno congruenti rispettivamente un cateto e un angolo acuto corrispondenti. Quindi abbiamo due triangoli rettangoli, se questo cateto corrisponde a questo cateto e questo angolo acuto corrisponde a questo altro angolo acuto, allora i due triangoli risulteranno congruenti. Vediamo il terzo criterio. Dice, due triangoli rettangoli sono congruenti se hanno congruenti rispettivamente l'ipotenusa e un angolo acuto. Se quest'ipotenusa è congruente a quest'ipotenusa e questo angolo acuto è congruente a questo angolo acuto, allora i due triangoli risulteranno congruenti. Vediamo ora il quarto criterio di congruenza che lo andiamo anche a dimostrare. Allora, il teorema recita in questa maniera. Due triangoli rettangoli sono congruenti se hanno congruenti rispettivamente l'ipotenusa e un cateto. Allora, abbiamo come ipotesi che questi due triangoli risultano essere due triangoli rettangoli e ac è congruente ad a'c' e l'angolo in b e l'angolo in b' sono congruenti e sono entrambi retti. Inoltre, abbiamo come ipotesi che ab è congruente ad a'b'. Allora, iniziamo un triangolo a'b'c' congruente ad a'b'c'. Ora, sappiamo che ac è congruente ad a'c''. a'c' è congruente ad a'c' per costruzione, allora possiamo dire che ac è congruente ad a'c'. Allora vuol dire che il triangolo a'c' è un triangolo isoscele perché questo lato è congruente a questo lato. Allora significa che ha gli angoli alla base congruenti. Ora, possiamo applicare il terzo criterio di congruenza dei triangoli rettangoli. Lo ricordiamo, due triangoli rettangoli sono congruenti se hanno congruenti rispettivamente l'ipotenusa e un angolo acuto. Allora vuol dire che abbiamo quest'ipotenusa e quest'angolo acuto. Quest'ipotenusa e quest'angolo acuto, allora sappiamo che ac' era congruente ad a'c''. secondo questo angolo è congruente a questo angolo perché complessivamente avevamo un triangolo isoscele e gli angoli alla base di un triangolo isoscele sono congruenti, allora possiamo dire che questo triangolo è congruente a questo triangolo utilizzando il terzo criterio di congruenza dei triangoli rettangoli. Dato che questo triangolo risulta congruente a questo triangolo e questo triangolo è congruente per costruzione al triangolo a'b'c', allora possiamo dire che il triangolo a'b'c' risulta essere congruente ad a'b'c'. Grazie. 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 Grazie.